C'è stato tutto il 961 nella mia vita. Io ero molto preparata cinematograficamente come attrice perché sono sempre stata un'attrice, una persona molto curiosa e soprattutto di cinema insomma per cui poi ci sono dei bellissimi cinema a Via Reggio per cui vedevo tutti i film, ero informatissima insomma e io ero uscita tipo da una settimana sulla copertina di un giornale che si chiamava Le Ore sì che non era però un giornale, anche io avevo una gonnellina scozzese, una maglietta barca e stavo così mi ha detto vuoi fare due foto? Ho detto sì sì lì a casa mia tra l'altro e poi mi sono vista con meraviglia stampata sulla copertina di questo giornale. Nel frattempo è successo tutto, mi hanno chiamato da Roma dicendo che dovevano fare un film per cui insomma avrei dovuto fare un provino e ah sì sì sì, ho saputo con... ma anche io nello schermo che così tanto frequentavo ho fatto questo provino, non avevo nessun batticuore perché non... ero... cioè ero disponibile quello che sarebbe successo insomma di mezzo è la mia vita. Allora ho fatto questo provino sono stata scelta, no no, sono stata scelta e con il mio sommo piacere insomma aspettavo il momento di fare girare il film e io nel frattempo mi sono andata da fare. Poi a me mi ha chiamato un agente, tale Filippo Fortini per cui io con questa gente ho detto ah beh famo però che siamo andati a Jerry nel frattempo ho fatto Gioventù di Notte con... come stiamo con l'attore francese? Sammy Frey, che è stato il primo bacio, il primo bacio cinematografico bacio cinematografico Cioè, abbastanza realistico. Ho rotto subito il ghiaccio. Ma scusi, come diceva non avere nessuna ansia? Niente, a quindici anni, è divina. E dunque, ma io credo che avevo un po' di incoscienza però anche molta, tutto sommato, consapevolezza di quello che volevo. Grazie. Però aveva capito di avere un talento? Cioè, sapeva di saperlo fare? No, no, questo assolutamente no. Come non ho mai saputo, da sola, che ero carina, insomma, perché la guardavo e dicevo ah sì, ciao. Però, insomma, non mi sono mai sentita bella. Sono gli altri che mi hanno fatto sentire bella. Ecco, io sono una donna molto fortunata, una persona molto fortunata. Credo che per me la fortuna sia proprio un sentimento e lo verifico perché io non mi sento mai sfortunata, mai. Non mi è mai successo di sentirmi sfortunata nella mia vita. Anche quando, come tutti, ho avuto qualche fortuna. Mentre invece sento molto la fortuna. Cioè, quando mi capita una cosa bella di... Abbiamo una cosa che ha detto di lei Bortognazzi, meravigliosa, che dice Stefania non è come tutti noi, è un oggetto misterioso, vive sempre in uno stato di leggera levitazione. Ero, questo ero, ero, perché lui mi ha conosciuto nel primo film, dunque, neanche nel primo film, subito dopo il mio primo provino. Quindi, era una bambina, insomma, mi facevo leggere il mio diario. Era una persona di cui mi fidavo e a cui mi affidavo. Tant'è che lui anche mi ha salvato parecchie volte, insomma, da qualche assalto, sullo scherzo, però, insomma, mi fanno. Senta, adesso sta lavorando in televisione invece? Adesso sì, sto facendo sei puntatone per I1, di cui sono molto fiera perché il regista è molto sapiente, molto bravo. E attraverso la televisione si ha la possibilità di comunque rappresentare una donna tutto tombo, perché il cinema è un po' più schematico, no? Certo, c'è anche più tempo, quindi si può sviluppare meglio il discorso, no? Sui televisioni immagini? Sì, assolutamente sì. Il cinema, giustamente, è più sintetico, per cui, giustamente, perché se no, una palla. Ecco, se no, dovrebbe essere... Io non amo i film, a meno che non siano film epici o storici o... Non li amo, insomma, proprio li diserto, ecco. Quanto dura sui film? Tre ore? Ci vediamo! Eravamo senz'altro, prossimo spettacolo. Due anni fa hai buttato la regia, no? È una cosa che le piace, cioè si vede anche un po' regista, mi piace troppo. Troppo, troppo, troppo. Mi piace moltissimo. Io ho faticato moltissimo per fare questo mio piccolo film. Ho tirato due mila giacche, di cui non mi pento, però per il mio filmino sta lì, il mio cassetto, lo amo tanto. Quando ero molto giovane, io a volte rifiutavo dei film per vedere chi li faceva. E' tanto avanti uno via l'altro, insomma, non è che c'era un po' regista. Era talmente una cosa sulla velocità che diventava gravitazionale. E poi facevamo, vedi? Chi se l'hai fatto? Allora, praticamente, il padrino, io non sono paganini, però non amo ripetermi. Nel padrino avevo lo stesso padre, la stessa madre, la stessa ruolo di vergine, la stessa visita della mammana, che era la stessa attrice. E allora io ho detto, vabbè, io sono diventata la vergine nazionale, adesso con tutto coppola, però io vado a fare la vergine internazionale, no, non gliela posso reggere, non gliela posso fare. Infatti lui si scusò, mi disse, sai Stefania, mi dispiace, mi dispiace che tu, è un piccolo ruolo. Ah, mi disse, però ci sono tanti attori che diventeranno dei grandi attori. E ci avevo le tre ore. Poi, l'ho verificato, mi sono compiaciuta, no? Perché era molto trend, o quantomeno. Non sapevamo manco chi erano, ma io mi stai conosciuto. Grazie. È stata la prima volta che io andavo alle, come si chiamano, basta mangiare, basta mangiare. Stavamo facendo una domanda, se mi distraccano, non perdi niente. Come sono le roche? Le, le? Ah, i giornalieri. I giornalieri, perché adesso non si fanno più tanto. Ma io ci sono andata, perché è molto noioso, insomma, vedere le scene a 40. Su 900 è stato l'unico film. Vuoi venire, ti passa a prendere l'autista per vedere le roche? Sì, 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 sì. Andavo. Tutta bella in ordine. E andavo. E lì poi dopo si andava a cena, si andava al bar, si andava a bere una cosa, si chiacchierava. Allora, io c'era un tema, era difficile la scelta via. E beh, c'era anche De Niro. C'era un sacco di carino. De Niro com'era? Era un mito carino. Ah, racconti il primo incontro in macchina. Ah, racconti. Lo vuoi, vuoi? Eh, sì, lo vogliamo. Allora, allora, praticamente mi viene a prendere, io ero già un po' che stavo, mi veniva a prendere. Il mio occhio si sta a tre lato, non so perché. Al Maria Luigi e era ancora notte, andoggiava, appena appena andoggiava, cominciava a orveggiava. Ah, io che mi stedevo sempre davanti, perché insomma chiacchieravo con l'autista, eccetera eccetera, e vedevo le nebbie, insomma così mi raccapezzavo un po' di più. A un certo momento diceva, devo, signora Sandralli, devo presentare l'attore che farà Alfredo Berlinghieri. e io mi volto, ah, ah, ecco, una cosa proprio, mi volto, ah, molto rieta, molto piacere. E si è risultato. No, ma come una fa. Ma quanto sei carino! E lui...